Deva Cassel è la giovane e affascinante figlia di due icone del cinema internazionale, Monica Bellucci e Vincent Cassel. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Nata a Roma nel 2004, Deva ha ereditato la bellezza e il carisma dei suoi genitori, diventando in poco tempo un volto ricercatissimo nel mondo della moda. A soli 16 anni ha debuttato come modella, sfilando per marchi prestigiosi come Dior, Cartier e Dolce & Gabbana, dimostrando una naturale eleganza e una spiccata personalità che l'hanno resa ambasciatrice di lusso per questi brand. Ma Deva non si è fermata alla moda. Decisa a costruirsi una carriera poliedrica, ha esordito nel cinema con il film La bella estate di Laura Lucchetti, tratto dall'omonima opera di Cesare Pavese. La sua interpretazione ha subito catturato l'attenzione. E presto la vedremo anche nella serie Netflix Il Gatto Pardo, dove reciterà al fianco di Benedetta Porcaroli. Sul set di questa produzione, Deva ha conosciuto il suo attuale fidanzato, l'attore bolognese Saul Nanni, che ha recentemente interpretato il giovane Rocco Siffredi nella serie Super Sex. Deva Kassel è un talento in continua ascesa, pronta a lasciare un segno indelebile sia nel mondo della moda che in quello del cinema, seguendo con grazia le orme dei suoi illustri genitori. A te chi piace di più? Deva o Monica? Commenta qui sotto e metti like.